benvenuti in questo nuovo video amici di sai che gusto oggi andremo a fare una pasta estiva molto molto amata dagli italiani andiamo a fare una pasta con il tonno andiamo a vedere gli ingredienti che ci occorrono per realizzare questo piatto e dopo andiamo ai fornelli questi sono gli ingredienti che ci occorrono per realizzare la nostra versione di pasta con il tonno abbiamo scelto un tonno in filetti due spicchi d'aglio del peperoncino dei gambi di prezzemolo un vino bianco secco per sfumare dell'olio extravergine d'oliva quello buono dei pomodorini del nostro orto e anche il basilico e della pasta fresca acqua e farina degli scialatielli grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.